I denti conchere, mi zara e movezze, in tutte le augurati ma io scattro e credi sia una scelta di nebole, si uccide lo sguardo se è vero e vigile nella propria coscienza si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, l'eccezione alla regola discida, non considero che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole prima si dell'anima, con poverate un'anava ricompensa giù credi rinuncia corrisponda una scena antropartita all laialina per tutta un'anima, con per due ambito angriacaiam 4. si uccido all piace all'initiare Grazie a tutti.